Si chiama Genitori Protagonisti e si rivolge ai genitori che hanno figli nella fascia 06 e che usufruiscono degli asili e delle materne comunali ad Arezzo. Ogni genitore potrà parlare con l'amministrazione comunale, dare suggerimenti o spiegare le problematiche che deve affrontare, prenderà il via entro la fine del 2024. Nasce per avere un canale diretto istituzionalizzato con tutti i genitori che hanno i bambini nei nostri servizi, quindi da 0 a 6 anni, per facilitare l'incontro, per avere un giorno al mese che sia libero, aperto, sempre quello dedicato a mettere insieme idee, proposte, criticità e quindi fare in modo che il rapporto con l'amministrazione non sia cercato ma sia comunque sempre con uno spazio definito. Un progetto che ha un obiettivo preciso, contribuire al raggiungimento nel prossimo triennio di liste di attesa pari a 0 per gli asili nido. Si può dire che nonostante il 12% in più di natalità e il 63% in più di richieste, oggi Arezzo si pone nella parte alta della classifica per risposta educativa, siamo abbondantemente intorno all'80% delle risposte. Abbiamo già un piano triennale però da 24 al 27 che auspica, e credo che sia nelle nostre condizioni, di portare le liste di attesa a 0. Logicamente questo è collegato anche alle domande, se le domande aumentano perché aumenta la natalità è un buon segno, è chiaro che i posti vengono attraverso delle scelte di tipo, diciamo, di edilizia scolastica. Però in questo momento siamo insieme a Ravenni, insieme a Bologna, insieme a Piacenza, tra i comuni con maggior risposta educativa. Il piano triennale ci porterà a queste domande, quindi con questa rappresentanza di richieste, a liste di attesa a 0 nel giro di tre anni.